Per il primo anno, seguendo la politica di essere presenti con il nostro concorso, in tutte le piazze più belle e rappresentative della nostra città, siamo stati ospiti del rione di Borgo San Sergio, nella bellissima e rinnovata piazza 25 Aprile. Bellissima location e grande interesse per il pubblico che non è mancato all'appuntamento. Per molti degli aspiranti Miss e Mister è stata l'occasione per fare i primi veri passi in passerella. Gioco di parole, 50 splendide ragazze si sono presentate in tutta la loro bellezza, sfilando prima in vestito elegante e poi in costume, ed altrettanto hanno fatto i più di 30 ragazzi che hanno partecipato. Una serata molto calda, 40 gradi alle 21, non ha impedito all'organizzazione e dal pubblico di divertire e divertirsi con lo spettacolo della bellezza. Apprezzato anche il breve simparito comico del nostro storico conduttore Mister Rocco, che ha stemperato la tensione dei concorrenti, mettendo tutti quanti al loro agio con battute ed allegria. Una serata riuscita all'insegna della bellezza. Grazie a tutti!